Buongiorno a tutti amici e anche questo è un video di riflessioni, è un video un po' di sfogo nel senso che oggi, se avete visto il titolo del video, vi farò vedere un po' di cose e vi spiegherò come è stato possibile che io abbia buttato letteralmente 1000 euro nel wc in realtà ho avuto modo di acquistare il telefonino di cui vi sto parlando e su cui mi sfogherò in sconto e per una serie di motivi l'ho pagato sensibilmente meno, però il prezzo di mercato di questa variante è comunque di 1000 euro e vi posso dire che il telefono in questione, il Legend Phone di Lenovo o forse dovrei dire di Motorola, si è rivelato forse il peggior telefono che io abbia mai potuto acquistare. senza dubbio in rapporto alla qualità prezzo ho riscontrato dei cinafonini da 100, da 150 euro anche i migliori per tanti motivi, per cui non so che dirvi se non vi faccio vedere un po' di cose. eccolo qua il nostro campione, ho già fatto questo eh, vediamo questo di mezzo, così che non ci siano traintendimenti. ho già fatto a riguardo un paio di video, il Legend Phone di Lenovo, se vedete tra l'altro è un gaming phone dall'apparenza anche abbastanza carina eh, è bello, 6 pollici e 8, ha la forma classica, perfettamente simmetrica dei gaming phone con queste grosse cuffie, scusatemi queste grosse casse stereo, in questo caso il mio modello è rosso, ce n'è uno anche blu, eh, poi è ovviamente creato per essere tenuto in orizzontale al punto che vedete la camera dei selfie esce da qui, a scomparsa. Il telefono è solido, pesa più di 200 grammi, è fatto con dei materiali di pregio, c'è anche i pulsanti virtuali. E allora, cioè, perché mi lamento di questo telefono? Mi lamento di questo telefono perché, adesso lo sblocchiamo, ok, io ho comprato questo telefono, guardate bene, sulla base delle varie recensioni che devo pensare essere delle recensioni prezzolate, guardate, queste sono quelle di Galeazzi, cerco di mettervele a fuoco, leggete? Che bomba, dice Andrea Galeazzi, il più potente del mondo mentre fa l'unboxing. E poi la bestia di Lenovo, patapì patapà, insomma, parla del telefono più potente del mondo. E anche su questo si può andare a sindacare perché, sostanzialmente, non è detto che sia davvero il telefono più potente del mondo, ciò che esiste un telefono, il ROG Phone 3 di Asus, che anche nella sua versione top ha le stesse specifiche di processore, lo Snapdragon 865+, fermo restando che cominciano a uscire anche telefoni con lo Snapdragon 888, quindi quella che era la mera potenza, tutto sommato, era destinata a durare poco e a sciogliersi comunque nel tempo, c'è poco da fare. Ma il punto è che questo telefono, il più potente del mondo, patapì patapà, qua c'è un paragone proprio, se vedete, con il ROG 3, perché non lo dico solo io, che non è il più potente del mondo. L'unica cosa che avrebbe di più potente è la ricarica più veloce, vedete, c'ha due buchi letteralmente, uno laterale e uno sotto. Anche il ROG Phone, volendo, ha due buchi per la ricarica, ma avendo una batteria doppia, non è una da 5000 mAh, ma due da 2500, volendo, dicono loro, si potrebbe ricaricare, si potrebbe ricaricare, diciamo, anche contemporaneamente attaccando i due cavi. Però secondo me gli ingegneri non hanno pensato molto bene a quello che stavano facendo, perché, vediamo se, ah no, stavolta non si, ah ecco, vedete, ad esempio, io non mi riesce a trovare la posizione, eppure siamo collegati al Wi-Fi, il telefono è piccolo, io premo, vediamo se riesce, insomma, ecco qua. Da quanto tempo siamo qui a fare questo video? Un bel po' di tempo, direi, però rimane che solo adesso ha trovato la posizione meteo, è il GPS, è la stessa cosa per quanto riguarda le chiamate, qualunque numero che io cerchi di fare, purtroppo, anche se mi dice di avere campo, non riesco a parlare con nessuno, letteralmente ti passa la voglia, perché stai lì a aspettare, 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 e poi, praticamente, non riesci a trovare la linea, ok? Poi, abbiamo parlato della carica, sì, è vero, sarebbe il più potente telefono, il più veloce, scusatemi, o comunque il più potente nella ricarica, il problema è che io fin dal primo giorno, se premo qui e vado su aggiornamento, lui cerca, mi verifica la disponibilità degli aggiornamenti, e non mi trova nulla, vedete? Nessun aggiornamento disponibile, io premo anche aggiorna, guardate bene, mi sta verificando, nessun aggiornamento disponibile, adesso andiamo a vedere, perché magari, se io vi dicessi che questo telefono non ha mai ricevuto un singolo aggiornamento, neanche le patch di sicurezza, voi potreste dirmi, ma tu sei un bugiardo, ce l'hai con loro, però non si sa quali motivi, però, però, andiamo a cercare un attimino, impostazioni generali, no, scusatemi, voglio capire esattamente dove sta, informazioni sul telefono, eccolo qui, guardate bene, la potenza c'è tutta, legge un phone 2, il Qualcomm Snapdragon 865 Plus, è un octa-core, è stato overclockato a 3 giga e 100, è disponibile, vabbè, c'ha 512 giga di spazio di archiviazione, la RAM è a 16 giga, quindi, insomma, il problema è la versione di Lenovo, questo 12 070 ST, andiamo a verificare, praticamente, quelli che sono, eccoli qua, ve li faccio vedere bene, livello patch di sicurezza Android, leggete bene, per favore, primo agosto 2020, questo vuol dire che il telefono non è aggiornato, le nuove app non ci, diciamo, stanno bene sopra, e soprattutto qualunque eventuale malware o virus, che fosse stato sviluppato dopo il primo agosto del 2020, potrebbe tranquillamente prendere questo telefono e fotterlo. Adesso io mi chiedo, mi chiedo, secondo voi, dopo che si è pagato mille euro un cazzo di un telefono, no? E' accettabile un discorso del genere? Io penso di no. Questo è, alla fine, questo è un cinafonino di merda, perché non so come spiegarvelo, non so come definirlo altrove, in altro modo, e anche come servizio post vendita, poi vi racconto, poi vi racconto, però rimane che questo in teoria non dovrebbe essere un cinafonino, dovrebbe essere un dannato top di gamma, smartphone da gaming, da mille euro. E invece? A chiamare non chiama, quindi la parte phone non c'è. La parte smart, onestamente, c'ha problemi su problemi, non si riesce a, come vedete, neanche il wifi prende bene, né il GPS, se devo aspettare 30 secondi per poter avere localizzazione, onestamente, è vergognoso. Se devo navigare, devo attendere tanto tempo, riguardo la carica, che cos'altro vi devo dire? e facciamolo vedere bene, che questo è il Legend Phone Duel di Lenovo, o Lenovo Motorola. Adesso vi spiego anche perché. E poi lì viene il bello. Aspettate, ma? Voglio metterci la faccia, tanto il telefono l'avete visto. Eccoci di nuovo. Allora, il punto è questo. Quando si provano a utilizzare entrambi i cavi per ricaricare contemporaneamente, il telefono in meno di 5 minuti diviene incandescente, per cui fa paura e conviene utilizzare un solo cavo alla volta. Quando, invece, il, si usa un cavo solo, a volte carica normale, senza nessuna particolare motivazione, a volte prende, e questo benedetto telefono, prende e si blocca. Si surriscalda, comunque, tanto, al punto da bloccare l'avanzamento della ricarica. questo fa sì che magari tu vai a dormire, lo metti in carica prima di dormire, perché vorresti utilizzarlo. Questo, inizialmente, avendolo pagato tanto, dove essere il mio telefono da lavoro. Ho capito che è un po' così, non voglio dire frufru, che sembra strano, è un telefono, diciamo, poco serio, molto stiloso, che dà nell'occhio. Perché poi, vi ripeto, a vederlo è bellissimo, guardatelo com'è, guardatelo com'è che cazzo, sto telefono, con sto led dietro, che si accende. C'ha il suo perché. Il punto è che, quando lo vai a utilizzare, diventa un dramma. Quindi, lo lasci in carica la sera, ti svegli la mattina, e magari, lo trovi, che non ha caricato. Perché si è surriscaldato. Vuoi chiamare, e non chiama. Ti vuoi, vuoi andare a recuperare i dati, ed è pigro. Vuoi connetterti al wifi, ed è difficile. Vuoi attaccare il GPS, ed è pigro ugualmente. E allora, sto telefono, a che cazzo serve? Lenovo? O Lenovo Motorola? E adesso vi dico tutto, adesso la diciamo. Voi sapete che, nel 2014, la Lenovo, ha acquisito Motorola, comprandola da Google. Ok? E questo lo si sapeva. Non è che vivo sugli alberi, questo lo so. Però, io ho pagato 1000 euro, questo telefono, perché c'è scritto Legion sopra. Legion è il brand top di Lenovo. Lenovo. Quando ho avuto dei problemi, ho cercato di chiamare l'assistenza. È stato difficile contattarli, parlando con l'assistenza di Lenovo. Mi dicono, no, vabbè, il Legion ha un'assistenza tutta sua, le diamo il numero. Morale della favola, io mi trovo a parlare con Motorola. si scopre che praticamente il telefono era stato fatto da Motorola come produzione, e si scopre che questi due brand adesso si fanno a scarica barile, e nessuno vuole dirmi quando uscirà un benedetto aggiornamento. nessuno vuole dirmi qualcosa. Quindi, mi hanno detto, che se volevo, potevo, avere, come assistenza, se lo, mi mandavano il DHL a casa, se lo pigliavano, mi lo riparavano, secondo loro. il problema è che non c'è modo di ripararlo, perché questo telefono non è difettoso, questo telefono è proprio fatto male, non è il mio che è rotto, cioè, sono tutti così, sono tutti uguali, sono tutti una merda, sono tutti mille euro buttati nel cesso, Lenovo, Motorola, perché sostanzialmente poi se ne lavano le mani. quindi, se volevo, mi hanno detto, se volevo la riparazione, dovevo scrivere a Motorola, questa è una cosa, se volevo invece il reso, perché poi ho detto, guardate, io vorrei sapere, voi vi occupate anche di software, io vorrei un link a un aggiornamento software, magari non l'ho ricevuto via Over the Air, e mi hanno risposto che no, l'aggiornamento non c'era, loro non ne sapevano nulla, che dovevo parlare con Lenovo, e se volevo a quel punto il reso, dovevo parlarne con Lenovo, ne ho parlato ugualmente con Lenovo, che mi hanno detto che per il reso, e no, passati 14 giorni non si fa più, che l'aggiornamento non c'è, e da agosto a quasi febbraio, comunque insomma, oggi è 20 gennaio 2021, da agosto 2020, neanche un benedetto aggiornamento, su un telefono da mille euro. a questo punto mi hanno anche preso in giro, cercando di farmi aspettare, cercando di prendere tempo, io non vi nascondo, che se trovo la loro pack, cercherò di farli, di mettermi, o di farli contattare da un legale, perché questo telefono qui, Legend Phone, guardate, Legend Phone Duel di Lenovo, che in realtà lo fa Motorola, questo telefono è un furto, questo telefono è un ladrocinio, questo telefono è una truffa, e non credete alle cazzo di recensioni, dei prezzolati, come Galeazzi, lo devo dire, mi hai deluso Galeazzi, che schifo Galeazzi, a prendere i soldi da questi disgraziati, disgraziati deficienti schifosi, ho buttato mille euro nel cesso, l'ho fatto io? Non lo fate voi, scusate lo sfogo. Grazie.